comunque sempre grazie moratti sbugiata zang l'impresa dell'atalanta di casperini tutto questo dopo la sigla a tutti benvenuti a questa nuova puntata del calcio secondo giovanni ricordo di mettere un like al video vi ricordo iscrivervi dna rossonero tv è completamente gratuito basta cliccare su stati iscriviti e attivare la campanella questo modo sarete aggiornati tutto ciò che riguarda il milan in tempo reale alcune volte anche in anteprima attraverso le nostre rubriche giornaliere attraverso le nostre live martedì giovedì sera quindi stasera le 22 dna team per l'ultima live del campionato poi logicamente continuano le live nel post campionato quindi seguite le 22 come avete fatto sempre in tantissime anche ultimamente vi ricordo inoltre che potete interagire con noi scrivendo nella chat durante la trasmissione del video e a fine video nei commenti e cercherò di rispondere il prima possibile anche agli interisti vi ricordo inoltre che potete aiutare il canale tramite donazioni all'indirizzo paypal dna rossonero dal 1399.com e potete anche acquistare gli ultimi otto cappellini rimasti a prezzo di 10 euro compresa di spedizione sempre o pagando tramite paypal a dna rossonero dal 1899.com oppure allo stesso tempo mandando una mail e vi spiegheremo come fare a proposito di questo intanto di tutto ringrazio davide saldetti che ha fatto un punto un versamento per l'acquisto e cappellino però non ci hai dato le tue il tuo indirizzo quindi diventa difficile per noi spedirlo quindi eventualmente se ascolti questo video mandaci una mail col tuo indirizzo così potremo effettuare la spedizione e mandati il cappellino che hai ordinato partiamo quindi con quella che tra notizia del mondo milan ieri di erico in origio quindi l'esonero di pioli o quantomeno il non tenere i pioli prossimo anno come allenatore del milan c'è stato un incontro ieri con pioli con il suo agente giuffrida presso casa milan e qui è stato detto che appunto questa sarà l'ultima partita quella con la salernitana di pioli sulla panchina del milan e la società non ha intenzione di rinnovare di confermargli diciamo il contratto che il prossimo anno quindi nei prossimi giorni ci sarà iniziare le contrattazioni per la famosa buona uscita situazione decisione che non era così clamorosa cioè si sapeva mai da tempo probabilmente la sconfitta con la roma in europa league che pioli non sarebbe stato confermato purtroppo con la sconfitta con la roma si è rotto qualcosa pioli ha perso la fiducia società perché sotto le due partite giocate male confusionare anche anche a causa delle sue scelte e quindi ha preso questa decisione che è condivisibile purtroppo perché comunque c'è bisogno di un rinnovamento un cambiamento anche di aria di atmosfera attorno al milan e vedremo appunto chi sarà il nuovo allenatore questo non toglie che a meno da parte mia e penso anche di tanti altri tifosi rossoniero ci sia bisogno ed è giusto dire un grande grazie a pioli per quello che ha fatto in questi cinque anni la gente alcuni non si ricorda dove siamo partiti dal 13 posto con giampaolo da sette anni che non arrivavamo a qualificarsi in champions da 11 anni che non vincevamo lo scudetto da 16 anni che non arrivavamo in semifinale di champions questi sono alcuni numeri di pioli perché è vero che ha perso sei debbi consecutivi è vero che ha preso tanti gol ma anche bisogna ricordarsi alcune cose che ha fatto quindi vittorio scudetto due oltre due secondi posti una semifinale di champions la maggior parte delle cose che erano anni anni che non arrivavano inoltre ci sono state anche il record delle partite consecutive consegnando due gol per ogni partita il 27 risultati utili consecutivi anzi oltre 40 scusate oltre 40 risultati utili consecutivi avvenuti diciamo a caballo diciamo dei campionato 2019 2020 2020 2021 e anche di gol segnati in partite consecutive quindi diciamo ecco che come si può dire ha fatto anche delle belle cose sicuramente il gioco di pioli nei primi due anni e mezzo è stato un bel gioco un gioco che veniva saltato anche dai giornali se vi ricordate perché è un gioco sicuramente con passaggi di prima veloce eccetera purtroppo dopo lo scudetto si è iniziato un po a non evolversi più un po dovuto semmai dopo lo scudetto ai mancati arrivi della campagna acquisti dove in fronte alla petta di cialanoglu e poi di chersì nei due anni precedenti non è arrivato nessuno è arrivato un decetlar che era proprio una seconda punta con trequartista arrivato righi che non ha fatto la punta arrivato dest che non ha fatto il terzino eccetera 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 lo scorso anno in cui pioli ha partecipato di più alla campagna acquisti gli acquisti secondo me hanno avuto un risultato positivo però non è stata completata diciamo la rosa e quindi c'è rimasto un grande buco e mezzo che pioli erroneamente pensava di chiudere con crunici invece purtroppo è rimasto questo buco che ha portato poi ad arrivare già a dicembre ad aver perso per il campionato essere eliminati in champions e quindi ecco aver già diminuito notevolmente i propri orizzonti a livello di possibili vittorie ma il colpo di grazia secondo me è stato ad aprile con la sconfitta in europa league sinceramente ecco due partite giocate male due partite giocate male e che hanno dato convinzione alla società di dover cambiare comunque sicuramente un in buco al lupo a stefano a pioli e spero che l'ultima partita con la serra nitana sia comunque applaudito da tutti i punti ma io ne sono certo veniamo poi altre notizie a parte c'è una notizia di leao che è stata sparata oggi dal o gioco giornale portoghese in cui si dice che c'è stata un'offerta da parte della lilal per leao altre cifre per l'acquisto di questo giocatore io non credo sinceramente è l'ennesima fake di questo periodo quindi ne darei veramente pochissimo senso a questo veniamo invece a quello che è successo ieri sera atlanta bayern leverkusen atlanta che travolge bayern leverkusen vince tra ieri a zero una partita dominata il primo tempo e poi tenuta sotto controllo nel secondo una lezione di gasperini a xavier alonso dell'allenatore più sannato in questo periodo in cui la sua squadra veniva da 51 per partite senza senza sconfitte è stato annichilito da gasperini gasperini che avevo criticato sperimenti invece contro la juventus contro cui aveva giocato malissimo la partita giocata grande intensità nel primo tempo con un pressing a tutto campo ossessivo cattivo e con una fase offensiva sicuramente molto cinica e anche molto efficiente quindi osanna oggi gasperini tutti lo stanno usannando tutti lo stanno elevando tutti lo applaudono effettivamente come merita perché vincere una coppa europea come l'europa league una città di 120 mila abitanti penso sia la seconda città più piccola dopo villiare al villiare al villiare al anzi detto spagnolo ad aver vinto una competizione europea quindi questo significa che si può fare calcio anche senza spendere miliardi di euro senza indebitarsi ma avendo un progetto già un progetto progetto quella cosa strana che ci vogliono degli anni perché arriva a compimento che non arriva che non avviene in un anno o due e senza un progetto anche se ci si chiama milan e ricordiamoci milan è stato 11 anni senza vincere uno scudetto e 16 anni senza arrivare a una semifinale di champions ci vuole ci vuole e bisogna avere pazienza per aspettare per vedere i risultati quindi se l'atlanta non avesse avuto pazienza e convinzione più gasperini a quest'ora non ci sarebbe stato solamente un europa league nella bacheca della squadra orobica ricordiamoci come gasperini è arrivata arrivato all'atalanta gasperini dopo una prima esperienza molto buona al genoa andò all'inter dove fece quattro partite fu effusione trato andò al palermo e fu esonerato e ritornò al genoa dove primo anno fece un quattordicesimo posto un secondo anno piuttosto buono sesto e poi terzo anno medio al decimo posto fu preso dall'atalanta e non so se qualcuno di voi si ricorderà ma non penso molto che nelle prime cinque partite del primo anno a bergamo perse quattro volte con sei gol fatti 11 subiti due sconfitte casalinghe con l'unica vittoria con il torino in casa per perse con lazio sampdoria cagliari e palermo e si trovò dopo cinque giornate penultimo in campionato tre punti con l'impoli sopra quattro punti con il cagliari anche quattro punti e con solo dietro il cosenza con un po crotone scusate con un punto solo eccoci io mi immagino se questo fosse successo a milano cosa sarebbe successo all'allenatore sarebbe stato messo sulla gogna pubblica sia da giornali che da tifosi e invece l'atalanta ha deciso di puntare ancora a sull'allenatore e adesso siamo all'ottavo anno con quattro finali raggiunti tre di coppa italia e una di europa league con una squadra che sta a dei bilanci ottimi con la squadra che gioca un bel calcio e con una squadra che ha vinto l'europa league prima squadra italiana vince questo vuol dire che anche come detto in città minuscole si riesce a vincere e fare bene non ci vogliono per forza capitali assurdi però ci vuole pazienza ci vuole un progetto e purtroppo vedo che le tifose in mina pazienza c'è veramente poca si vuole conti che si può vincere ieri nemmeno domani si vuole vincere subito perché noi siamo in mina e vi ricordo eravamo in milan adesso di milano abbiamo il nome abbiamo personalmente fatto abbastanza bene gli ultimi anni ma si veniva da un'eternità in cui milan navigava quinto sesto ottavo posto e poco più e veniamo a inter corner logicamente ma grande passaggio qui ancora vogliamo conoscere ulteriormente logicamente come andrà considerare situazione di oltre il suo inserimento nell'inter e quello che era in realtà la situazione zang e per questo parte parola di materazzi che lo dico così velocemente perché non è proprio da considerare più di tanto dice che oltre non farà lo sbaglio del mina fatto con maldine massara manterranno marotta eccetera e peccato maldine massara non era marotta antonello e soprattutto marotta non ho mai visto dire una parola contro zang e lo stesso antonello magari avrebbe avuto anche probabilmente l'occasione e anche la giustificazione però ecco io volevo sottolineare soprattutto un'intervista che è avvenuto a moratti fatta ieri e pubblicato oggi a quale della sera in cui dice praticamente che parla un pochino della nuova situazione dice che tutto la cosa che dà più fiducia è che ci sia ancora rimasto punto marotta e antonello che vogliamo essere tranquilli e sereni però ci sono anche delle difficoltà dice che octria sia un grande capitale e per questo può essere anche rischioso perché l'inter non è la sua attività principale ma è una delle attività quindi non è il suo centro di interessi quindi potrebbe essere gestita forse in modo meno peculiare meno attento che se ci fosse stata una proprietà diversa ma la cosa che è interessante due cose sul fatto se il fondo americano possa essere un problema per l'inter morate aggiunto e chi può dirlo percepiamo una certa sicurezza nella catena dirigenziale non abbiamo alternative se non fidarci di loro quindi o questo occhio di come si dice a chi conviene guardare per una cessione bassi nomina otta volta possibili acquirenti mediorientali però puntolini puntolini ma quello che vuole soluzionare è quello che dice pacchiamento moratti riguardante lo stadio dell'inter avere lo stato di proprietà potrebbe alzare la pile ma steven stava già esposto di molto quelle banche dove ritrovava i soldi quindi ricapitolando tutta la montatura dello stadio che io anche qui sembra essere l'oracolo mi avevo già detto anche lì c'è la con down 9 ricordo che in realtà non poteva fare lo stadio l'inter perché non avrebbe trovato mai soldi che era indebitata che quindi la mossa era solamente una mossa di copiature del mina è stata certificata da moratti quindi non do giovanni gardini ma vostro ex presidente moratti sto rivolgendo a tifosi dell'inter che ci seguono così con tanta assiduità dove ritrovava i soldi questo è quanto lui si chiede e quando siamo chiesti noi forse voi non lo vedete probabilmente o 3 adesso rifare allo stadio perché l'unica possibilità secondo me con cui potrà vendervi perché altrimenti con i debiti che ci sono nell'inter nessuno sarà il pazzo che metterà un miliardo e 5 miliardo e 6 senza avere una proprietà immobiliare qualcosa e quindi probabilmente ottria adesso forse andrà avanti nello stadio perché è l'unica possibilità con cui può guadagnare ulteriormente quindi può far salire eventualmente il prezzo di vendita dell'inter ma zang non aveva i soldi e quindi tutto quello che abbiamo letto che è tutto fatto che è la strada in discesa o come siamo bravi come siamo belli adesso facciamolo in grande stadio tutto a colori in azzurri in realtà era tutto un'ennesima montatura vi ricordo anzi vi consiglio di andare su milan news e di leggere un articolo di antonello gioia intitolato resta soltanto un avanzo di magia un articolo molto 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 bello che vi consiglio di leggere e noi ci vediamo stasera alle 22 vi ricordo di mettere un like al video vi ricordo di scrivere di nero su tv lo state facendo ma fatelo ancora di più perché vogliamo arrivare entro metà luglio alle 10 mila 10 mila iscritti che per noi sarebbe un grandissimo traguardo raggiunto in così breve tempo cosa dirvi vi auguro una buona serata come detto ci vediamo presto e vi do il mio solito e usuale forza mila ciao ciao